Dylan Dog 423, la stanza del guerriero, bello ma non balla, mi dispiace. Wabalabadabdab e bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Dylan Dog, continuiamo a parlare della serie regolare che da qualche numero a questa parte non mi sta particolarmente entusiasmando. Devo dire che dal trittico estivo dedicato a Vasco Rossi le storie mi erano anche piaciute, nonostante magari l'idea commerciale di fondo fosse strana, fosse appunto troppo commerciale, in un certo senso sbagliata, non lo so, ma le storie ispirate erano davvero ispirate, se mi passate la cacofonia. Mentre le storie successive, come La Variabile, proprio non mi erano piaciute, il momento blu si aveva un non so che di un certo rimando alla cronaca, che però fondamentalmente più che documentarla non ci stava trasmettendo nulla, e infine arriviamo a questa stanza del guerriero, che anche qui è il classico numero che io avrei ficcato nell'old boy, e adesso vado a spiegare perché. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che hanno un armadio molto strano, e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questa storia. Seguitemi anche sugli altri miei social che trovate qua sotto in descrizione, ormai su Twitch spero di iniziare a dare una certa regolarità, mi troverete in live il martedì e il giovedì, e su Instagram per poter essere aggiornati appunto sulle live. C'è anche il gruppo Telegram che è rinato proprio per restare aggiornati sulle live di Twitch, ma anche perché no sui video che faccio su YouTube. Allora, la stanza del guerriero di Carlo Ambrosini con i disegni di Gabriele Ornigotti. Una storia che su stessa missione di Ambrosini era nata per il Dylan pre-reboot, però devo dire che ci sta tranquillamente nella continuity attuale, non ci sono particolari richiami, non è questo il grosso problema che abbiamo avuto per esempio nella variabile, ci mancherebbe. Quindi, per carità, se le storie che devono ancora finire di sfruttare, di riciclare in un certo senso, cioè da sfornare, che sono state studiate per il Dylan pre-reboot, non hanno forti richiami, possono tranquillamente essere inserite, quindi per carità questo non è il grosso problema. Il grosso problema è che la storia scorre tranquillamente, molto bella, come storia di per sé, ma non mi sembra una storia di Dylan Dog, ma non nel senso che Dylan Dog è totalmente spettatore della cosa, perché Dylan Dog è sempre spettatore dei fatti che accadono, è l'uomo della strada che rappresenta noi lettori che leggiamo, ficcato all'interno della storia. E questo non è un grosso problema. Il grosso problema è che è una storia con del fantasy, è una storia con del soprannaturale, ma anche con dell'horror, con dello splatter, perché no, ci sono delle zeste mozzate, dei corpi infilzati, eccetera. Però non c'è quell'elemento di horror che fa del parallelismo con la vita, con gli orrori della vita reale, che ci dà in un certo senso una lezione di quello che è la società, eccetera, come Dylan dei fasti storici è solito fare, ma è semplicemente una storia che scorre, una storia che poteva leggersi in Dampir, in un Dylan Doggole Boy, dove appunto non è necessario, per forza che ci sia sempre una lezione ogni mese, ma è sufficiente leggere una storia fruibile, una storia gradevole. E questa è una storia gradevole, però manca un po' di quell'elemento. E devo dire, non ci sarebbe nulla di male sul fatto che ogni tanto anche le storie di Dylan siano semplicemente delle storie che vanno raccontate, che hanno un inizio e una fine. Però nel mese dove è uscito un Colorfest che invece è prepotente dal punto di vista sociale, è molto prepotente il Dylan Doggo Colorfest, è impossibile non fare un confronto dove questo numero ne esce sconfitto, esce decisamente sconfitto rispetto al Colorfest che invece porta Dylan Doggo a quello che dovrebbe essere, cioè a quello che dovrebbe essere, a quello che è stato nei fasti e che la gente in un certo senso pretende che ci sia sempre. Sarebbe bello vedere un Dylan Doggo ai livelli altissimi dal punto di vista sociale di quelli che c'erano negli anni 90. Non è sempre così, anche perché al giorno d'oggi le persone che amavano Dylan Doggo a livello sociale negli anni 90 sarebbero quelle che oggi lo detesterebbero senza scendere in particolari dettagli. Lo detesterebbero perché magari non si troverebbero d'accordo con le idee di Dylan Doggo, nonostante le idee di Dylan Doggo non siano mai cambiate. E quindi c'è sempre questo problema di tenere due piedi in una scarpa e Dylan Doggo non si sbilancia mai come dovrebbe essere. Si è già sbilanciato parecchio nel Color Fest si poteva anche usare di più però appunto il pubblico di Dylan Doggo è vasto, ma non così vasto da potersi permettere di perderlo e quindi Dylan ha sempre questo difettuccio. Poi, non volevo nominarlo perché non si vuole fare mai il confronto ma il confronto si fa. Anche Samuel Stern questo mese surclassa Dylan nel senso che è Samuel Stern che dovrebbe raccontare una storia dall'inizio alla fine con un tema preponderante che è la possessione demoniaca dove sì ci sono magari dei risvolti metaforici alla vita reale ma dove è la storia a farla da padrone. E invece è successo in Samuel che ci fosse una storia, una metafora sulle vicissitudini, sui problemi reali della vita davvero preponderante e qua invece non c'è nulla di tutto questo. C'è un classico fumetto che si poteva leggere in edicola preso e letto sotto l'ombrellone d'estate tanto per passare il tempo nella noia della spiaggia e poi anche cestinarlo. Ovviamente io non cestino i fumetti però il lettore non abituale avrebbe avuto ben donde di leggerlo e poi buttarlo. Quindi scusate se sono cattivo non voglio assolutamente essere cattivo con gli sceneggiatori, con i disegnatori perché io apprezzo ogni storia. Ecco, io dico solo nel concert totale di quello che dovrebbe diventare e rimanere Dylan Dogg dato che tutti si lamentano che Dylan Dogg non è più come i primi 100 e in questi casi, cazzo, hanno anche ragione non che non ci siano numeri fantastici oltre i 100, però è per dire il concetto. Mi dispiace perché la storia è bella però da Dylan Dogg io mi aspetto di più soprattutto dalla serie regolare mi aspetto di più soprattutto alla luce del fatto che esiste l'old boy esiste il color fest e porco cazzo dovrebbe essere più bella la serie regolare di questi due. Perché prevale sempre non sempre ma quasi sempre il color fest? Perché lì si osa qua non si osa ancora e quindi tutta sta rivoluzione quando ci sarà io sono un po' stanco tra l'altro avevo detto che avrei letto avrei aspettato fino alla fine della trilogia non so, di Madame Treykovsky ma vedo che non sta arrivando sono davvero in dubbio se leggere Dylan Dogg ogni mese a questo punto o se aspettare un vostro consiglio su quando leggerlo ho già mollato l'old boy sono davvero in dubbio se mollare anche la serie regolare perché se devo leggere questo francamente leggo altro sicuramente continuerò il color fest perché mi sta entusiasmando ma davvero non lo so non so se a questo punto vale la pena aspettare la trilogia della Treykovsky o ricominciare quando ci sarà la trilogia della Treykovsky a meno che non fosse quella di Vasco era Vasco Madame Treykovsky in questo software boot non lo so fatemelo sapere voi nei commenti grazie per avermi seguito fino a qui video cortissimo perché appunto non c'è molto da dire la storia è scorrevole ma senza senza alti fasti a meno che non siete esperti in fisica quantistica in metafisica e volete scrivermi qualcosa che io non ho colto fatemelo sapere io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video e vi ricordo che domani lunedì 6 c'è una live sempre su youtube su Samuel Sterna ci saranno con me ospiti Luca DJ e anche Gianmarco Fumasoli creatore di Samuel Sterna arrivederci grazie a tutti grazie a tutti